Non si ascoltano le riunioni a porte chiuse, non si prendono e non si estrapolano gli auto. Detto questo, visto che a voi piace sbirciare dal buco della serratura, una volta che sbirciate, ascoltate bene quello che ha detto. Non ha detto che la Meloni rompe le scatole, ha detto meglio andare d'accordo che avere la Meloni che ci rompe le scatole, che mi sembra una cosa di buon senso, detto a una riunione per spiegare perché si va a dare d'accordo. Questo si sono visti, si continuano a vedere tutte le settimane, hanno detto, mi auguro, se non tutte le settimane quasi, perché il centrodestra, nonostante che potrebbe piacere alla sinistra spaccarlo, è unito e non c'è modo di disarticolare il centrodestra per il futuro, perché il PD sa che se il centrodestra è unito perderà le prossime politiche e finalmente andrà all'opposizione, nonostante che tutte le volte perde e va il governo. Quindi la sinistra spera di rompere il centrodestra per continuare a governare perdendo le elezioni, non si riuscirà. Ma c'è un problema di concorrenza, questo voleva dire Salvini. No, era l'esatto opposto, bisogna evitare che ci sia la concorrenza perché la concorrenza a volte ci indebolisce, ed è andato in fatto, abbiamo visto le elezioni. L'eccessiva concorrenza rischia di indebolire. Quindi, guardate, non si sbircia dal buco della serratura, non si ascoltano le dichiarazioni degli altri all'interno dell'Unione del Partito, ma se si ascoltano fino in fondo a quel punto uno capisce che c'è una buona fede nella volontà di andare ancora più d'accordo.